buongiorno ragazzi sono vincenzo trione il prese della facoltà di arti e turismo oggi insieme vi racconteremo qualcosa e poi mi auguro ci sarà un po di spazio anche per ascoltare le vostre domande le vostre diciamo le vostre inquietudini le vostre speranze per parlare del nostro corso di laurea magistrale in arte valorizzazione mercato prima di farlo chiedere alla regia di mandare da subito il lo spot che annuncia un po la filosofia sottesa al nostro corso di laurea grazie si potrebbe pensare a un palazzo neoclassico nel centro storico magari alla sede di qualche istituzione economica la classicità dell'architettura potrebbe creare un contrasto interessante potrei organizzare un flash mob che coinvolga tutta la città un'operazione di gareia marketing con manifesti dappertutto e gadget da distribuire nelle scuole e nelle biblioteche e alle fermate dei mezzi pubblici si potrebbe pensare a una valutazione a rialzo è un artista emergente ma nel giro di pochi anni potrà riscuotere grande successo una giovane casa d'aste potrebbe essere interessata ad accoglierlo ci si potrebbe girare un documentario qualcosa simile alla video arte oppure pubblicare un libro fotografico utilizzando un tipo di carta che esalti le qualità della materia l'arte sotto ogni punto di vista ecco l'arte sotto ogni punto di vista noi teniamo molto a questo slogan che è diventato nel corso degli anni un po la nostra il nostro marchio di fabbrica la sfida esattamente questa cioè provare a raccontare a misurarsi con l'arte esattamente sotto ogni punto di vista credo che per coloro che si iscriveranno ora all'università in modo particolare per coloro che si iscriveranno ora in una laurea magistrale sia uno dei momenti più importanti nella propria vita io sono profondamente convinto che ci sia le fasi di passaggio i riti di passaggio vadano studiati con grande tensione con grande passione grande entusiasmo il vero il grande passaggio che in realtà vi introduce al mondo al mondo dei grandi al mondo dei professionisti esattamente quello dell'ingresso della scelta della laurea magistrale il nostro corso di laurea nasce come intanto in antitesi a una serie di corsi di laurea legati alle discipline artistiche che trovate che trovate nell'offerta formativa di tanti atenei lombardi e italiani noi non siamo un corso di laurea di economia dell'arte non siamo un corso di laurea in beni culturali di carattere piuttosto tradizionale quello che ci ha guidato dall'inizio è stato un grande modello un modello di cui in questi in questi mesi si sta parlando molto probabilmente tanti fra di voi avranno sentito che ursula von der leyen ha parlato e sta continuando a parlare del modello per l'europa del futuro bauhaus ovvero di uno spazio all'interno del quale discipline saperi pratiche conoscenze si trovino a convergere a confluire ecco è un po questa la nostra grande scommessa pensare la nostra laurea magistrale un po come un grande bauhaus contemporaneo un bauhaus nel quale l'arte appunto viene vista sotto ogni punto di vista oggi non abbiamo più bisogno il mondo dell'arte il mondo dei professionisti legati all'arte non non hanno bisogno esclusivamente di saperi di carattere verticale è un modello che è ampiamente superato da quella che è la richiesta del del mondo del lavoro del mondo del mercato legato alle professioni dell'arte abbiamo bisogno al contrario di un approccio di tipo orizzontale ecco è quello che a noi interessa offrire nel nostro corso di laurea magistrale un approccio orizzontale che consenta ai nostri studenti di pensare innanzitutto l'arte come esperienza che ha un momento storico artistico fondamentale è importantissimo che coloro che si iscrivono al nostro corso di laurea acquisiscano delle nuove conoscenze che non sono quelle che maturate all'interno di un triennio ma sono conoscenze più specialistiche più tagliate più orientate conoscenze che vadano dal collezionismo all'arte contemporanea ma l'altro pilastro idealmente la nostra laurea magistrale si poggia su quattro colonne fondamentali la prima colonna è appunto quella delle discipline storico artistiche la seconda colonna imprescindibile è quella legata agli aspetti di carattere economico gestionale nel momento in cui vi apprestate a entrare nel mondo del lavoro la prima cosa che vi viene chiesta oltre a delle conoscenze è anche la capacità di valutare l'impatto economico quotare un determinato progetto saper leggere un determinato bilancio di un progetto di un evento artistico e culturale ma la vera l'altra e siamo ora alla terza colonna decisiva per noi l'aspetto della comunicazione molti di voi probabilmente conoscono innanzitutto julman come università della comunicazione ecco il nostro corso di laurea riprende questa tradizione propria di ulm e da uno spazio rilevante al dialogo tra arte e comunicazione infine e questo è un aspetto per noi imprescindibile c'è la dimensione organizzativa noi siamo profondamente convinti che la laurea magistrale abbia sia un primo passo che vi introduca al mondo del lavoro e dunque noi vogliamo che coloro che frequentano il nostro corso di laurea a differenza di coloro che frequentano tanti altri corsi di laurea italiani abbiano la capacità di conoscere e saper fare quindi misurarsi con anche con una serie di discipline di discipline di carattere più strettamente organizzative come si articola la nostra offerta la nostra offerta intanto c'è un aspetto che mi piace molto sottolineare con voi ovvero la nostra offerta formativa di anno in anno tenta di ripensarsi noi abbia si ripensa attraverso il dialogo con gli studenti che spesso come in quest'anno ci hanno lanciato molti input si ripensa alla luce di confronti costanti con alcuni dei più importanti attori del mondo della produzione artistica e culturale del nostro paese si ripensa alla luce di scenari come quelli che ci apprestiamo a vivere che sono radicalmente cambiati attenzione ragazzi la vostra generazione avrà davanti a sé un'opportunità in qualche modo storica straordinaria la generazione post covid ci auguriamo tutti di uscire da questo incubo che stiamo attraversando la generazione post covid si troverà di fronte a un momento di ripensamento di ricostruzione di invenzione ed è certo non bisogna essere profeti ed è certo che spazi come quelli della cultura del turismo dell'arte saranno tra i primi ad avere un rilancio e dunque occorre essere preparati e questa è la ragione per la quale noi proviamo a costruire a pensare a dei professionisti adeguati agli scenari che vengono adeguati al nuovo che avanza ecco dunque figure che abbiano la capacità di lavorare in strutture pubbliche musei in strutture private le gallerie le fondazioni e case d'asta cioè tutto questa questa le società di produzione delle mostre degli eventi artistici e culturali una galassia piuttosto ampia che ha bisogno di nuove professioni la nostra offerta il nostro cosa farete coloro che sceglieranno il nostro corso di laurea sostanzialmente sono invitati a fare una navigazione in mare aperto con dei compagni di viaggio quei compagni di viaggio sono non sono docenti accademici ma sono anche tanti professionisti tanti professionisti consolidati poi la professoressa de simone avrà modo di citarvi alcuni nomi che vi consenteranno di saldare esattamente questi due livelli il livello di una conoscenza verticale affidata agli accademici tra virgolette e un approccio di conoscenza orizzontale che vi verrà spesso data dai professionisti ecco una delle cose qualche giorno fa mi è capitato di leggere una riflessione di un grande costituzionalista contemporaneo che si chiama sabino cassese è una ha scritto una sorta di manuale dedicato ai giovani nel quale diceva provate a lavorare sull'intersezione tra i saperi ecco la sfida del nostro corso di laurea esattamente questa lavorare all'intersezione sulla soglia tra i saperi e mettere insieme la dimensione dello studio la dimensione laboratoriale quasi tutti corsi cioè tutti corsi anche quelli di carattere storico teorico prevedono dei momenti laboratoriali prevedono dei momenti in cui i ragazzi non solo devono studiare approfondire ma devono imparare a lavorare in team a lavorare su progetti con idee chiare tempi precisi valutazioni esattamente come quello che succederà nel mondo del lavoro ma non solo studio e laboratori anche project work la professoressa di simone vi racconterà la nostra offerta di project work che non sono attenzione non sono stage nessuno tirocini sono qualcosa di molto diverso che vi assicuro non esiste in nessun altro ateneo italiano il project work sono un'occasione irripetibile per i nostri studenti per andare a lavorare presso strutture musei istituzioni di grandissimo rilievo musei che si occupano di ambiti molto diversi dal rapporto tra l'arte e la tecnologia al al rapporto con tra l'arte il patrimonio quindi diverse sfaccettature abbiamo scelto volutamente dei partner diversi e con ciascun partner i nostri studenti lavoreranno a dei progetti che verranno valutati dal da cui partner e verranno fatti insieme con quei partner infine una che è un po il nostro tratto distintivo è quello di misurare i nostri allievi i nostri studenti con la realizzazione di una mostra che è la mostra di fine anno nel corso del tempo ne abbiamo organi i nostri studenti li hanno pensate ideate curate comunicati organizzate tante dal 2012 al 2020 ogni anno i nostri studenti si sono misurati con l'organizzazione di vere e proprie mostre 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 in cui non sono non si sono comportati da studenti ma da professionisti hanno lavorato hanno lavorato sotto la nostra guida con artisti pittori scultori fotografi video artisti ne hanno scelto le opere insieme con gli artisti hanno lavorato sull'allestimento sulla selezione dei percorsi espositivi hanno lavorato sugli aspetti della comunicazione l'ultimo tassello di questo percorso è rappresentato dalla mostra che lo scorso settembre lo scorso ottobre i nostri studenti hanno curato ancora adesso se vi collegate al sito urm c'è un link che vi consente di passeggiare all'interno di una mostra virtuale dedicata curata dai nostri studenti e dedicata interamente al è la prima mostra del caso che ha avuto devo dirvi anche notevoli risposte per esempio un alcuni tra i siti più seguiti in italia magazine più seguiti in italia come art tribune l'hanno considerato come un modello italiano di mostra virtuale tenete conto che nella fase pandemica il tema delle mostre virtuali dei tour virtuali è diventato assolutamente decisivo i nostri ragazzi hanno curato questa mostra nella quale hanno radunato per la prima volta una selezione piuttosto significativa di opere di artisti fotografi ma anche uomini di teatro ispirati dal tema della pandemia dunque una mossa che di molto coraggiosa importante vi invitiamo a vederla perché è stata fatta dai nostri studenti sotto la nostra guida il nostro coordinamento insieme con dei responsabili informatici che hanno offerto ai nostri studenti anche degli strumenti specifici ecco e mi appresto a concludere la mia breve presentazione il lo scenario attuale costringe musei gallerie fondazioni diciamo tutto il sistema dell'arte a un serio ripensamento sarà molto difficile immaginare che da qui al prossimo ai prossimi anni si ritornerà al mondo precedente si ritornerà alle solite mostre alle solite ai soliti percorsi all'interno dei musei bisognerà attrezzarsi a lavorare su un sistema in cui online e offline saranno indissolubilmente in dialogo tra di loro e questa la ragione per la quale nel nostro corso di laurea nella nostra offerta formativa di quest'anno per la prima volta abbiamo deciso nel secondo anno di immaginare due percorsi due percorsi a scelta che si biforcheranno vale a dire che avremo il secondo anno sostanzialmente ruoterà intorno a due macro insegnamenti uno di carattere più strettamente curatoriale e uno di carattere più strettamente digitale qual è la l'opportunità la nostra nuova offerta formativa che daremo agli studenti la possibilità tra gli esami opzionali nel ventaglio voi oggi ne eh ce ne sono alcuni che troverete pubblicati sul sito Yulm ma l'offerta è ancora più ricca la scoprirete tra poco il ci stiamo lavorando molto ma abbiamo previsto due percorsi privilegiati due macro aree un'area per coloro che sceglieranno un percorso di tipo più eh curatoriale un'area per coloro che sceglieranno un percorso più legato ai temi del digitale dunque gli studenti mi auguro voi che ci state ascoltando quando vi scriverete potrete tranquillamente scegliere ma è un'opportunità non è un obbligo potete scegliere tranquillamente se puntare su un'area un settore perché vi riconoscete maggiormente sugli aspetti negli aspetti curatoriali oppure se avete voglia di misurarvi con un settore che in questo momento ha bisogno di nuove competenze eh legate al dialogo tra arte comunicazione e digitale questa è un'opportunità nuova importante nessun corso di laurea a livello italiano si sta muovendo in questa direzione e dunque la nostra vera sfida è quella di davvero far sì che io lo ripeto sempre la la mia la nostra ambizione è quella di far sì che i nostri studenti escano dalla laurea magistrale non solo con avendo fatto una una bella esperienza da studenti ma già da professionisti cioè a noi piace che i nostri studenti possano i nostri laureati possano venire fuori con non solo una marcia in più con un bagaglio di conoscenze e di relazioni molto più ampio dato anche dalla relazione con dal rapporto con i professionisti che insegnano nel nostro corso di laurea ma la grande sfida è quella di creare anche una diciamo far sì che nel loro curriculum già ci siano delle presenze di carattere professionale in modo che nessuno di voi possa uscire e trovarsi di fronte alla domanda che tanti si sono sentiti fare sì bravo ti sei laureato hai avuto anche una votazione alta ma che che cosa sai fare cosa hai fatto veramente che tipo di esperienza ecco noi vogliamo far sì che voi possiate dire sì io ho fatto una determinata esperienza ho lavorato presso una determinata istituzione significativa che fa curriculum ho curato una determinata mostra ho pubblicato su uno dei più importanti forse il più importante seguito sito di arte italiano che art tribune che è uno dei nostri partner e così via tutte queste sono opportunità oramai consolidate cioè tutti i ragazzi che hanno frequentato i corsi di laurea da noi hanno vissuto queste esperienze esperienze che vengono affiancate anche da un'apertura verso la dimensione internazionale quando si uscirà da questo incubo sicuramente si avvertirà di nuovo l'esigenza di viaggiare e di potenziare delle opportunità di erasmus per esempio all'estero e la nostra facoltà il nostro corso di laurea sta puntando molto nel primo semestre del secondo anno ad avere delle partnership con istituzioni universitarie che presentano una offerta formativa piuttosto vicina alla nostra per far sì che i nostri studenti se vogliono possano andare al primo nel primo semestre del secondo anno anche all'estero dunque vedete che è un ventaio piuttosto ampio chiudo invitando la regia a mostrarvi un breve trailer che racconta la nostra penultima avventura espositiva nera protagonista uno tra i maggiori artisti contemporanei più volto per più volte presente alla biennale di venezia che marco nereo rotelli che ha seguito è stato il protagonista di questa mostra ideata curata seguiti allestita insieme con i nostri studenti invito la regia a mostrarvi questo trailer e dopo passo la parola alla professoressa di simone che entrerà un po nel vivo anche del piano degli studi grazie a tutti grazie a tutti allora buongiorno benvenuti anche da parte mia io sono anna luigia de simone insegno al secondo anno di questo corso di studi storia e teorie delle mostre contemporanee allora per entrare un po nel vivo del modello formativo vorrei però svelarvi un po qual è la formazione davvero della squadra che sta dietro la progettazione l'attivazione la realizzazione poi il monitoraggio e il costante anche cambiamento e aggiornamento del nostro modello formativo chiedo alla regia di dimostrarvi un po la rete la grande rete di rapporti che sta dietro al nostro modello formativo in realtà è una squadra formata come diceva il professor trinone da una parte da professori con una struttura da studiosi accademici da professori attivi impegnati pienamente in attività anche all'esterno dell'università mi riferisco a figure come lo stesso professor trinone che è anche critico d'arte del Corriere della Sera che è anche curatore di mostre ha curato il padiglione Italia della Biennale di Venezia nel 2015 è presidente di diverse fondazioni a livello internazionale in ambito culturale oppure di scrittori come Antonio Scurati che è stato nelle scorse edizioni vincitore del predino strego o progettisti anche economisti della cultura come il professor Pierluigi Sacco ci sono tante figure che lavorano a cavallo tra il mondo universitario e sono pienamente immerse nel mondo invece del lavoro accanto a questi un grande pool di professionisti professionisti che provengono dai grandi enti, dalle grandi istituzioni, dalle grandi realtà, dalle imprese culturali che nel nostro paese sono ampiamente impegnate e mi riferisco a figure come Roberto Pisoni adesso poi vedremo meglio come sono collocate che direttori di Sky Art piuttosto che figure come Franco Laera che è uno dei tra i maggiori produttori d'arte di eventi artistici a livello internazionale Patrizia Sandretto Rere Baudengo che è la presidente delle fondazioni culturali italiane e presidente anche della fondazione omonima tanto importante ma insieme a questa tanti altri e ne nominerò altri tra qualche istante nel frattempo davanti a voi vedete però anche alcuni nomi di imprese culturali, musei, fondazioni, editoria, rassegne, fiere di grande importanza, gallerie, case d'asta che ci accompagnano e ci accompagnano grazie a un confronto continuo sia nella fase di progettazione aiutandoci a capire quali sono le variazioni, alcune ve ne aveva anticipato il professor Trione e quindi della domanda di competenze, di conoscenze, di professionalità che queste imprese culturali richiedono essendo pienamente dentro quello che è il cambiamento in atto e allo stesso tempo poi ci aiutano prestandoci alcuni dei loro professionisti che insegnano nei corsi che tra un momento vi illustrerò ancora ci aiutano anche perché monitorano la preparazione dei nostri studenti grazie alle attività in aula e ci offrono una serie di opportunità, offrono i nostri studenti ovviamente sia all'interno dei corsi specifici mi riferisco a progetti particolari che vengono attivati in collaborazione con i singoli musei, con le singole gallerie, con le varie fiere ma anche ad opportunità aggiuntive che aiutano i nostri studenti, quelli che vogliono approfondire un'area specifica oppure semplicemente vogliono orientarsi anche con attività ulteriori, non obbligatorie ma che arricchiscano il loro profilo professionale ne vedete alcune, magari dopo ritorniamo su alcune delle opportunità che specifiche realtà ci offrono se possiamo andare avanti invece introdurrei un po' il modello formativo noi l'abbiamo pensato ovviamente su due anni in cui il primo anno è particolarmente dedicato a fornirvi quelle che sono le conoscenze, i saperi, le competenze legate agli ambiti che riteniamo essere essenziali per la vostra formazione per la definizione del vostro profilo professionale dunque insegnamenti che si muovono, che hanno un taglio storico critico per esempio dal punto di vista artistico ovviamente culturale, mi riferisco a insegnamenti come culture visuali, come storia del collezionismo ad esempio, ce ne sono molti altri ovviamente ne citerò alcuni oppure insegnamenti a che approfondiscono quello che è l'ambito gestionale e comunicativo relativo sempre alle istituzioni d'arte, a ciò che richiedono le fondazioni d'arte, i grandi musei che vi aiutano a lavorare su quelli che sono gli elementi di base dello storytelling in questi insegnamenti per esempio sono presenti figure come direttori di musei, ex direttori di musei come Gianfranco Maraniello per esempio, Roberto Pisoni che vi citavo oppure ancora pensiamo che al primo anno dobbiate lavorare su quelli che sono gli strumenti gli strumenti che vi consentono di comprendere le logiche per esempio legate al diritto, al diritto dell'arte che sono fondamentali per potersi muovere in questo ambito oppure quegli strumenti che vi consentono di comprendere fino in fondo e di agire ovviamente quelle che sono le strategie delle case d'asta, delle gallerie, ancora delle fondazioni d'arte dunque le strategie del mercato dell'arte. Non ultimo alcuni insegnamenti che debbano puntare a sollecitare la vostra attitudine all'autoimprenditorialità che è fondamentale in questo settore perché vi consente di inventarvi anche quelle che potranno essere le professioni del domani mi riferisco a insegnamenti come Startup per l'arte per esempio che è un unicum all'interno del nostro percorso il primo anno si concentra su questi insegnamenti che hanno un'area teorica e un applicativo come vi anticipava il professor Trione e poi alla fine dell'anno anche in questo caso come un'opportunità c'è l'organizzazione di un job lab di che si tratta? Si tratta di un laboratorio intensivo che è un'opportunità, non è obbligatorio anche se è fortemente caldeggiato perché ogni anno cambia ed è affidato ogni anno a un partner, a un partner specifico che ci sembra possa lavorare su quello che è il profilo professionale emergente in quel periodo, in quel particolare frangente ed alla fine del job lab si realizza un progetto che ha seguito le dinamiche, le tempistiche un po' che avreste affrontato se vi fosse trovati in primo stagio o in una prima esperienza lavorativa poi il secondo anno, il secondo anno è molto speciale è un anno in cui innanzitutto potete immaginare già di interrogare quelli che sono davvero i vostri interessi quindi provare a capire in quale orizzonte professionale avete voglia di muovervi così gli insegnamenti sono più o meno divisi in un'area curatoriale mi riferisco a insegnamenti come Art Direction degli eventi artistici e culturali per esempio e quindi legati ad eventi fisici che possono essere, ovviamente non è solo questo, ce ne sono altri che possono essere obbligatori, quindi c'è un gruppo di insegnamenti che tutti voi affronterete e poi ci sono degli opzionali, cioè degli opzionali che anche in questo caso possono essere dalla didattica museale, all'allestimento, all'ufficio stampa che vi consentono di approfondire maggiormente quell'area se vi interessa l'altro orizzonte è legato invece all'area digitale mi riferisco a insegnamenti come Social Media Communication per esempio anche in questo caso un gruppo di insegnamenti obbligatori e un gruppo invece a scelta come Informatica per l'arte, Diritto d'autore per il web e tanti altri che vi accompagnano nel perfezionare questa area attraverso ulteriori insegnamenti che vi sembrano più vicini ai vostri interessi non è un obbligo però perché potete benissimo seguire i vincolati come li chiamiamo noi, sia in area digitale che in area curatoriale e poi non scegliere nello specifico uno di questi settori ma mixare un equilibrio di insegnamenti a scelta che vi aiutano a formare il profilo che è più vicino alle vostre aspettative il primo semestre del secondo anno poi ha una particolarità questi insegnamenti sono messi in parallelo quasi in maniera simmetrica con alcuni insegnamenti presso partner stranieri per cui quando ci troveremo in una condizione un po' più normale sicuramente lo sarà per voi che lo incontrerete al secondo anno avrete l'opportunità di decidere se passare il primo semestre all'estero fare questi, affrontare questi esami all'estero fare la vostra esperienza lì e allo stesso tempo riuscire a mantenere anche un equilibrio nel dare gli esami in tempo perché abbiamo, ovviamente studiando abbiamo organizzato il tutto per facilitarvi questo tipo di processo al ritorno avrete così l'opportunità al secondo semestre di frequentare, di vivere quella che per noi è la work experience cioè è il periodo durante il quale frequentate questo laboratorio legato alla progettazione, alla produzione, alla comunicazione artistica e culturale presso alcuni dei nostri partner ne vedete solo alcuni segnati qui mi riferisco al MIT, Digital Culture Center alla Fondazione Brescia Musei a Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ne vedete solo alcuni che vi ospiteranno per la realizzazione con loro del project work quindi non un tirocinio, lo anticipava il professore non uno stage, non è un luogo dove andate a passare del tempo magari facendo il caffè e le fotocopie ma avete un progetto specifico da dover realizzare che è stato concordato precedentemente con noi, con l'università e che realizzerete in collaborazione con questi professionisti con i professionisti a cui sarete assegnati a seconda dei vostri interessi e dell'offerta che abbiamo a disposizione sarà un progetto concreto che potrete mettere in curriculum come progetto realizzato con quella istituzione e dunque un po' un tentativo per risolvere quel circolo vizioso nel quale a un primo colloquio vi potrebbero chiedere ma cosa avete fatto? e beh sì, abbiamo fatto un progetto con quella determinata istituzione l'ultimo aspetto di questo secondo anno è la mostra ovviamente avrete una tesi di laurea da dover realizzare ma il progetto finale è la mostra la mostra in cui voi affrontere tutte le fasi dalla progettazione, dall'ideazione della mostra ai rapporti con gli artisti all'organizzazione, alla comunicazione della mostra stessa e su questo ormai avete modo tra poco vi mostrerò anche alcune altre immagini oltre a quella molto emozionale che avete visto all'inizio proprio per vedere le varie fasi di lavoro che i nostri studenti affrontano facendo un'esperienza reale della progettazione di un evento concreto ora accanto a questo poi tante altre opportunità in tempi normali un viaggio studio un viaggio studio che noi proponiamo ai nostri studenti accompagnati dai docenti all'estero per incontrare una serie di professionisti e visitare strutture museali e grandi istituzioni entrando in contatto con coloro che ci lavorano e capendo quali sono le dinamiche anche a livello internazionale quindi un'esperienza molto importante anche in questo caso è un'opportunità non è un obbligo ma è un'occasione unica che ovviamente ogni anno noi proviamo a realizzare chiaramente ogni anno in cui il Covid ce l'ha permesso e ancora una serie di altre opportunità di incontro con professionisti in cui potete anche scambiare i vostri curricula per capire come migliorarlo nelle vostre attività e come fare a migliorarlo migliorarlo anche grazie alle altre opportunità che quei partner che avete visto all'inizio ci offrono stage presso la fondazione San Dretto Rebaudengo presso la città dell'arte fondazione Pistoletto progetti di studio presso l'Israel Museum e tanti altri che sono invece opportunità che possono arricchire o meno laddove le voleste fare il vostro percorso in ultimo e poi vi lascio alla visione di qualche di qualche di qualche di qualche immagine noi sappiamo molto bene che tanti di voi provengono da percorsi differenti da trienni anche molto diversi e a noi piace molto tutto questo per venire incontro proprio al fatto che magari alcuni possono sentirsi un po' meno forti su alcune di quelle aree che noi riteniamo essenziali in ingresso mi riferisco all'economia all'inglese per le arti mi riferisco all'arte alla storia delle arte in quei casi abbiamo previsto all'inizio del primo anno nella prima parte del primo anno dei corsi introduttivi molto brevi che non hanno legati a sé un esame dalla necessità di dover sostenere un esame ma che vi consentono di recuperare qual è la bibliografia fondamentale intorno a quelle tematiche da approfondire che vi consentono di individuare quali sono i professori che nel nostro Ateneo si occupano di quelle materie per poter avviare un dialogo che vi consenta di recuperare quelle aree sulle quali vi sembra di essere meno forti detto questo chiederei alla regia di mandare qualche immagine un video di un po' di esperienze passate delle nostre mostre e accanto a questo vi invito ad andare a guardare l'esperienza della mostra virtuale che hanno fatto i nostri studenti quest'anno sul sito della UU a questo a questo a questo è un gioco a questo è un gioco che ha Grazie a tutti. 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 E non dimenticate mai che il corso di laurea magistrale è un nuovo inizio, cioè si riparte, davvero è una nuova sfida che fate e quindi non pensate a, non potete vivere né di rendite di posizione né potete pensare di avere delle lacune incolmabili. Si ricomincia, si ricomincia con l'entusiasmo di un nuovo inizio. Grazie a tutti. 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 Quindi è come se fosse più un colloquio motivazionale che conoscitivo. Questo per noi è molto molto importante perché vi assicuro la motivazione è qualcosa che è difficile da recuperare. Le conoscenze in qualche modo si possono recuperare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie professore. Abbiamo una domanda da parte di Clara Tagliabue che chiede se i test di ammissione saranno svolti in presenza oppure online. No, ovviamente, sì, ma saranno online ovviamente, certo. Per adesso nessuno di voi sarà sottoposto ai rischi di trasferimenti di venuti a Milano. Poi ovviamente l'auspicio, ma credo oramai abbastanza fondato, che da settembre si ritornerà in una condizione normale e a quel punto chiaramente saremo tutti quanti in presenza. Benissimo, grazie. Non ci sono altre domande? Non so se volete aggiungere qualcosa. Non so se la De Simone voleva aggiungere qualcosa. No, forse no. Ok, allora io ringrazio moltissimo i ragazzi. Ovviamente per coloro che hanno necessità di domande, curiosità, possono scrivere sicuramente alla segreteria, ma possono anche scrivere direttamente a me o alla professoressa De Simone. Le nostre email sono molto semplici, cioè nome.cognome.it, quindi qualsiasi informazione, anche suggerimento, perché spesso ci capitano anche email nelle quali i ragazzi ci chiedono dei suggerimenti o avanzano delle proposte. Sappiate che ci siamo, questo è un po' il nostro approccio al corso di laurea e quindi tutti coloro, cioè non pensate al corpo docente come qualcosa di troppo distante da voi, ma pensateci come dei compagni di viaggio. Professore, la interrompo, scusi perché sono arrivate tre domande, quindi magari… In zona? Ok, ok. Allora, la prima è di Sofia, che chiede, buongiorno a tutti, io volevo chiedere, vista la situazione di emergenza sanitaria, se nei prossimi anni continueranno ad essere erogate le lezioni online? Allora, è molto prematuro dirlo, ma in qualsiasi Ateneo le risponderebbe allo stesso modo. Credo che sicuramente occorrerà fare una riflessione, ma a livello italiano, sulla modalità della didattica anche online, ma se devo esprimere la mia opinione sarà in affiancamento, ma il cuore del nostro lavoro, non lo dimentichiamo mai, è l'esperienza in aula. Soprattutto in un corso di laurea magistrale che punta sulla dimensione laboratoriale, il confronto, deviso all'interno dello stesso ambiente, è assolutamente decisivo. Grazie. Edoardo chiede, provengo da studi umanistici e volevo chiedere se con arte ci si concentra soprattutto su storia dell'arte o anche altre discipline umanistiche? Beh no, non ci si concentra soltanto su storia dell'arte, certamente storia dell'arte ha un ruolo importante, però attenzione se voi guardate il piano degli studi non troverete nessun insegnamento che il cui titolo recita esplicitamente storia dell'arte. Troverete insegnamenti come quello sul collezionismo e sull'antiquariato, che è più legato all'arte moderna, insegnamenti come quello che tengo io di cultura visuale, che è molto più legato all'arte contemporanea, ma troverete anche insegnamenti di carattere letterario, la professoressa De Simone citava il caso di Antonio Scurati, troverete l'insegnamento di carattere filosofico, c'è un corso di filosofia dell'arte, c'è il corso di diritto che è tenuto tra l'altro da un insigne giurista, e poi ci sono tutti, che è Carla Barbati, e poi ci sono una serie di altri corsi invece di carattere più strettamente economico. C'è la filosofia dell'arte, per esempio. Sì, sì, l'ho citato, l'ho citato. Un'altra domanda riguarda l'eventuale possibilità di poter fare un'esperienza all'estero, un Erasmus. Sì, è quello che diceva prima la professoressa De Simone, cioè al secondo anno, il primo semestre, i ragazzi hanno la possibilità di andare a fare un'esperienza di sei mesi interamente all'estero, quindi abbiamo una serie di università partner, con le quali abbiamo un rapporto molto consolidato, e sono università che, come dicevo prima, hanno un'offerta formativa piuttosto vicina e contigua alla nostra. Grazie, ho una domanda invece forse più per Chiara Marangoni. Per quanto riguarda gli esami di ammissione, ho letto dal sito che ci si può candidare anche nelle sessioni successive. Questo vale solo per una sessione successiva o per entrambe quelle di aprile e giugno? Non so Chiara se vuoi dire. Assolutamente, c'è la possibilità di candidarsi. Noi apriamo i test di volta in volta, quindi se andate a vedere il regolamento di ammissione, ciascuna sessione ha una data di scadenza di presentazione della domanda che è legata alla sua sessione. Se lo studente dovesse candidarsi per una sessione, non sentirsi pronto, o per qualsiasi motivo non potersi presentare per quella sessione, potrà ricandidarsi per la sessione successiva facendone esplicita domanda. Chiaramente laddove fosse stato già effettuato il versamento della tassa di prescrizione, questo non verrà richiesto una seconda volta, quindi la tassa di iscrizione al test viene versata una sola volta. Ok, altre domande? Ci sono delle domande relative alle borsi di studio e alle tasse, e per queste risposte magari chiedo agli studenti di visionare la nostra sezione del sito Yulm, agevolazioni economiche, e per informazioni più dettagliate potete scrivere a dirittoallostudio-yulm.it, poi magari vi scriviamo in chat l'indirizzo corretto. Se c'è un'altra domanda... Non ci sono altre domande, professore. Grazie. Ok, grazie a tutti i ragazzi e davvero la speranza è di incontrarci in presenza. Grazie, grazie ancora e buona avventura. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.